Il PD Fanese per questo accordo esprime, immaginiamo, un grande consenso e un buon risultato. Noi siamo assolutamente soddisfatti del protocollo firmato ieri tra la Regione Marche e il Comune di Fano. È una pagina fondamentale per la sanità locale, territoriale e soprattutto per la città di Fano, che come ben sapete avremo a breve un ospedale di secondo livello a Muraglia, ma soprattutto abbiamo la certezza che Santa Croce rimarrà aperto. Rimarrà aperto e sarà funzionale all'interno di Marche Nord, erogando servizi di assoluto livello che può garantire la salute dei cittadini e soprattutto continuare a essere un punto di riferimento per la sanità della vallata. Vorrei ricordare che oltre al pronto soccorso con i codici rossi, Santa Croce potrà avere medicina d'urgenza, chirurgia d'urgenza, tutto quello che è la diagnostica, un ospedale oncologico e tutta la chirurgia programmata che attualmente stiamo già facendo all'interno del Santa Croce e che continueremo ad erogare. Quindi sicuramente un risultato eccezionale. Quindi oltre a Santa Croce aperto, un ospedale di secondo livello a Muraglia, noi avremo una clinica privata convenzionata nel territorio di Chiarruccia, quindi nel territorio fanese. Avremo 90 posti letto convenzionati di RSA che permetterà lo sblocco a Gimara Alta, dell'housing sociale, ma soprattutto della piscina in zona aeroporto e, cosa non da poco, 20 milioni da destinare alle infrastrutture. Quindi a tutta una serie di strade, nuove strade, per collegare Fano a Pesaro.